Nonostante il carcere per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti, un uomo di 53 anni di San Giorgio di Pesaro, una volta in libertà, è ricascato nello stesso reato. L'uomo, nel 2015, fu arrestato dai carabinieri perché aveva allestito in casa una serra per la coltivazione della marijuana e trovato con 5 kg della stessa sostanza essiccata e 32 piante adulte da recidere. I carabinieri all'epoca si erano insospettiti per via dei consumi anomali di corrente elettrica a fronte del fatto che l'uomo vivesse da solo e in uno stato di degrado totale. Dopo essere uscito dal carcere ha allestito nuovamente una serra per riscaldarla, però ha deciso di installare pannelli solari evitando così i consumi sospetti. Anzi, per eliminare del tutto il problema, nel luglio scorso aveva disdetto il contratto di fornitura elettrica. Anche in questo caso, però, la scelta in materia si è dimostrata infelice. I militari, passando davanti alla casa, hanno visto l'immobile illuminato così come la serra sul retro. E dopo una breve verifica con il fornitore di energia elettrica, i carabinieri hanno deciso di vederci chiaro e si sono presentati sulla soglia di casa. L'uomo ai militari ha mostrato l'impianto fotovoltaico pensando di chiudere in fretta il controllo, cosa però che non è avvenuta e i carabinieri hanno controllato l'intera abitazione, scoprendo ben presto così uno scenario esattamente identico a quello individuato due anni prima. Al piano superiore c'erano le piante di marijuana appese in via di essiccazione. Nel garage, otto piante mature trasferite dalla serra a causa dei primi freddi in attesa di essere recise. E nella serra esterna era stato riallestito un impianto completo, mentre in giro per la casa nascosti un po' ovunque vi erano sacchetti e sacchettini di marijuana pronti per essere venduti. Complessivamente sono stati sequestrati dagli uomini dell'arma 600 grammi di marijuana, otto piante e attrezzature varie. Il 53enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 53enne così è stato tratto in arresto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In mattinata nel tribunale di Pesaro, dopo la convaida, l'uomo ha patteggiato una pena ad un anno di reclusione e 3.000 euro di multa, tornando così immediatamente in libertà.